Roero Sticchio di Piemonte della provincia di Cuneo, località Castellinaldo, Claudio Costa presidente dei Vinaioli di Castellinaldo, ma abbiamo raggiunto questo bel luogo perché oggi va in scena il campionato europeo pensate amici di Bocce Quadra. Claudio devi essere tu a spiegare che cos'è questo campionato e soprattutto perché le Bocce Quadra a Castellinaldo. Siamo giunti alla dodicesima edizione del campionato europeo di Bocce Quadra, un gioco un po' particolare, un po' pazzo, un po' per la gente che vuole divertirsi e passare una giornata diversa dal solito. Il gioco delle Bocce Quadra è stata un'idea dell'associazione di Vinaioli nata già 12 anni fa, avendo nel centro storico delle salite e delle discese un borgo un po' antico in collina le Bocce Rotonde sinceramente non andavano bene e abbiamo studiato questo nuovo gioco e quindi è un bel risultato. Chi è che può giocare? Tutti, dal bambino al nonno perché non bisogna essere dei professionisti perché comunque è anche un gioco che va un po' fortuna. Vedete le Bocce come sono... Sono dei cubi veri e propri. Sono dei cubi di 7 cm per 7, si gioca qui sulla via dove c'è il porfido in salita, in discesa e abbiamo dovuto avere questa forma perché comunque non dobbiamo farle scappare, quelle rotonde non andavano bene. Parliamoci chiaro, un gioco sicuramente fuori dal comune, fuori dai luoghi, non convenzionale ma una bella scusa per stare insieme e far festa. Sì, sì, alla fine l'obiettivo è quello, l'obiettivo è portare la gente a Castellinaldo, fargli vedere il bel panorama che abbiamo, poi oggi è una giornata splendida. Le vigne meravigliose, assaggiare i grandi vini e passare una giornata in compagnia. E così per le strade di Castellinaldo va in scena questo campionato, i concorrenti a squadre, a gruppi di 2 e 2. Qui come vanno le cose? Benissimo, benissimo. Stiamo lottando. Ma è più facile, è più facile in discesa o in salita? Difficile da dire. È un'altra boccia? È un'altra boccia, ci stiamo provando. Ma bella bella, le bocce quadrate, cosa bisogna fare per far diventare le bocce quadrate? Ma guarda che forte sta cosa qui. Sì, molto forte, è la prima volta che giochiamo. È il primo anno che venite. Però è divertente, dai. Dalla valle, dove dalla valle? Da Courmayeur. Montagne meravigliose, luoghi stupendi. Noi Carmagnola, no. Carmagnola, ah. Siamo avversati. Loro sono peperonari per ovvi motivi, però insomma, buon divertimento. Grazie. Va bene, dai, dai. Grazie, grazie. Qui le cose come vanno? Qui siamo abbastanza bene, ben messi. Adesso aspettiamo che la signora tiri e poi vediamo come si pronunciano le cose. Allora, dalla Val d'Aosta ho sentito, sì. Un po' su, un po' in discesa e un po' in città. Ah, sì, sì, andiamo un po' su, un po' giù. Ma a quanti punti si va? Ai sette. Ai sette? Ai sette punti. Poi si smette. Poi si smette e si riparte con un'altra partita. Dai, dai, facciamo tirare la signora. Vai, 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 dai, dai, dai. Vediamo un po'. Eh, beh, 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 insomma, no, 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 momento, momento, momento. Non cantate vittoria. Aspetta che qui c'è il giudice, qui siamo a 124 da questa parte per la marrone, qui la verde. La verde siamo a 141. Hai visto, hai visto che adesso ne hai? Sottovalutavo la moglie, ma bisogna sempre valorizzare le moglie, eh. Come vanno qui le cose? Qui c'è tensione, c'è tensione. C'è tensione? Molto tensione. E ho, è un campionato. Quanto siamo? 1-0 per chi? Aroncioni o verdi? Verde. 1-0. Voi arrivate da dove? Noi da Domo d'Ossola. Da Domo? Ah, che bello. La mia amore è principessa, vengo dalla Svizzera. Dove è Svizzera? Brick. Ah, Brick. Ah, bene, bravo, bravo. E anche le amici, vedete, è internazionale questo momento, d'altronde è un campionato europeo, ci mancherebbe. Poi guarda, c'è scritto anche lì, bello grande, campionato europeo di bocce quadra, Castellinaldo. Allora, mi dicono che c'è anche il presidente della Proloco di Riva Rossa, dico bene? Vicepresidente. Vicepresidente. Vabbè, dai, oggi come oggi, vice, uno più uno meno. Giovanni, Torino, Torino, provincia di Torino, Riva Rossa, provincia di Torino. Hai visto cosa fanno qui, a Enel Roero? Certo, sono, di fatti, ho un amico che è binaiolo, ci siamo incontrati, abbiamo parlato di questo cubocce, mi è piaciuto tantissimo e noi abbiamo fatto una piccola variante, le abbiamo chiamate cubocce, che sono la stessa cosa, bocce quadra, però gli abbiamo messo come fossero i dadi. La gara prosegue per le vie appunto del paese, le varie coppie si iscrivono, prendono le bocce, completano la partita, lasciano campo poi ad altre persone iscritte e si va avanti così. Come abbiamo capito, bisogna fare i sette punti. Però sarebbe bello, posso chiederle una cosa, vedo che gioca, che è tutta presa, ma è più capacità o è più fortuna? Perché con le bocce quadra, dai? Più che altro è fortuna, la capacità non è. Un conto, è vero? Eh sì, infatti, perché sono già quadrati, girano come vogliono, eh? Girano, anche se quadrati girano, le bocce, anche se quadrati girano. Guarda, la butti, poi gira, gira, si ferma dove vuole, come vuole. Ecco, qui vedete, questi qua invece cercano gli avversari, cosa è successo? Dove sono finiti? Chi lo sa? Stiamo aspettando che arrivano i nostri avversari. Sapete chi sono, sì. Sì, li abbiamo visti prima. E' una donna. E' uno minorenne. Noi siamo qua di Castellinaldo. Ma secondo me perciò lo stesso. Cioè, la cosa bella è che c'è allegria, ecco perché abbiamo detto, è un buon motivo per fare una bella domenica insieme. Perché non venire a visitare questo magnifico paese, tutti in allegria? Traordinario direi. Con grandi vini e belle persone. E bellissime persone. Grazie, anche lei è una bella persona. Grazie. Qui la partita si fa seria, ecco che ha appena proprio lanciato la boccia, non abbiamo preso il punto ma siamo andati vicino, mi sembra, si concentri bene, si è gentile perché dobbiamo andare a punto e questo è un gioco di totale capacità, una capacità, punto, punto. C'è questo signore che si chiama Mario. Mario, non l'abbiamo preso. Eh, pazienza. Prossima, dai, tocca alla signora, dai, proviamoci. Niente da fare. Vai, ancora una verdolina. Ai, 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 allora, allora, quella là no, quella là direi di no. Forse queste due. Cinque. Vabbè, cinque a tre, cinque a tre e prosegue in salita. Sembra facile ma non è. No, no, noi abbiamo già perso. Questi sono i risultati, se ne abbiamo già perso. Viva la sincerità, è vero, viva la sincerità. Come va la partita? Posso chiedervelo? Posso? Cinque pari siamo. Cinque pari? Perfetto. Ma, senta, lo chiedo anche a lei, è più capacità o è più fortuna? È più fortuna. È solo fortuna. Però ho visto la signora che ci va, però c'è un bel, eh? La prima volta. La prima volta. No, però vedo che concentrarci tiene a far bella figura. Quello sì, però è fortuna. È solo fortuna, mamma mia. Allora possiamo giocare anche noi, Gavazza, dalla regia. Tanto non bisogna essere capaci, possiamo farlo anche noi. No, ma è più fortuna. 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 No, ma è più fortuna.